Musica 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 Hola ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video su Vitamonzo Ragazzuoli oggi andiamo a vedere la per pace Del Geek Art2Friends come ben sapete oggi è uscito Il DLC quindi hanno passato tantissimi Glitch come anche il Geek Art2Friends Allora è facilissimo Siamo in una sessione ad inviti Siamo in mira manuale Andiamo subito con gli altri requisiti Servirà ovviamente il nostro centro operativo Mobile e come al solito Ragazzuoli obbligatorio Centro operativo mobile e con il terzo Slot deposito veicoli Personale ok se no non fate Nada de nada poi dopodiché Ragazzuoli abbiamo bisogno Anche o dell'Arena War Oppure del nostro Night Club Adesso lo faccio vedere anche in schermata Quindi Night Club con il B2 Un garage quindi E un veicolo al suo interno E idem anche per l'Arena Quindi almeno Un livello e un veicolo all'interno Poi dopodiché dobbiamo avere L'RC bandito che però non è obbligatorio Come requisito è giusto per verificare Se siamo buggati Se non avete l'RC bandito Potete utilizzare un appartamento O vostro o di un vostro amico Poi dopodiché dobbiamo recarci All'autoraduno di Los Santos Ok quindi questo punto qua della mappa Perfetto Ok ragazzuoli a questo punto Andiamo a chiamare Gerald, Simon o Ron E andiamo a richiamare un'attività Ok quindi andiamo a richiedere un'attività da loro Quindi io vado a utilizzare invece Gerald Quindi funziona con Gerald, Simon e Ron E vado a richiedere un'attività Una volta che richiedo l'attività Mi metto vicino a uno dei veicoli di prova A questo punto mi assicuro che ovviamente Mi arriva l'attività sul mio telefono Una volta che arriva Premo triangolo davanti il veicolo Faccio entra da solo Poi immediatamente prendo il telefono E lascio questa schermata qui dell'attività Appena l'auto supera la linea gialla Spammerò X Quindi vado a spammare X Fino a quando non avrò questa visuale qua Dopodiché ragazzuoli faccio cerchio e X E esco dall'attività Subito dopo dobbiamo prendere il telefono E accettare di nuovo l'attività di Gerald Premere Option Andare su Online Adesso ve lo faccio vedere anche dalla schermata Quindi andare online E andare su Acquista carte prepagate Shark A questo punto aspettiamo che si caricano tutte le carte Dopodiché premeremo Indietro E avremo la possibilità di andare in retromarcia Perfetto A questo punto andremo tutto in retromarcia Ci sarà questa schermata qua Non toccheremo nulla A questo punto ci sarà l'attività La lobby dell'attività Usciremo dalla lobby dell'attività Ok Rimarremo per un attimo così Glicciati, buggati in queste schermate Poi dopodiché respawneremo Ma senza minimappa dentro l'autoraduno A questo punto se vogliamo riavere la minimappa Quindi per ovviamente muoverci meglio nella mappa Andremo nella parte sinistra nel salone dei tatuaggi Premeremo freccia destra nel salone dei tatuaggi Non dovremo assolutamente toccare nulla Solo entrare, uscire e avremo di nuovo la minimappa Perfetto A questo punto usciremo fuori dall'autoraduno LS Quindi avremo quasi finito per glitcharci Metodo veramente, veramente semplice Una volta che saremo fuori dall'autoraduno Dobbiamo richiedere un veicolo O dall'arena Oppure dal nightclub E vi consiglio il livello B2 Ok Quindi un veicolo al suo interno E livello B2 Quindi vado a chiamare il meccanico Vado sul mio ovviamente nightclub livello B2 E chiamo un veicolo qualsiasi State tranquilli perché tanto non andiamo a perdere Quindi vado su B2 Richiedo il veicolo A questo punto una volta che lo richiedo Aspetto che mi spawna in mappa E praticamente avremo quasi finito di glitcharci Quindi di buggarci Ok Una volta che spawna in mappa ragazzuoli Dovremmo portare questo veicolo di nuovo a nightclub Non utilizzate teletrasporto Non utilizzate nulla del genere Ma utilizzate questo veicolo che dovete riportare a nightclub Per ovviamente avvicinarvi al vostro nightclub Quindi io mi avvicino al mio nightclub Una volta che sono al mio nightclub Vado all'ingresso e seleziono il veicolo da dove l'ho preso al meccanico Quindi il B2 A questo punto ci sarà questa schermata glitchata Premerò triangolo Cadremo nel vuoto Una volta che saremo di nuovo in sessione Per verificare se sono ovviamente bugato Vado a richiedere su inventario veicoli RC E vado a richiedere l'RC bandito A questo punto premo X Aspetto il caricamento dell'RC bandito Una volta che sono ovviamente con l'RC bandito Premerò triangolo Se al mio ritorno lampeggerò in questo modo Vuol dire che mi sono bugato In alternativa potete entrare in un vostro appartamento Oppure quello del vostro amico A questo punto sarò pronto per ricevere ovviamente il mio veicolo Quindi mi indirizzo verso il posto di scambi Che si trova in questa posizione qua E vado a prendere il mio veicolo A questo punto ragazzuoli Ho invitato già il mio amico Ho ovviamente il mio amico con il veicolo Che mi dovrà passare Vado ad acquistare il veicolo che voglio sacrificare Lo vado a mettere direttamente nel mio centro operativo mobile Quindi potete utilizzare o la LG O un qualsiasi veicolo Mi raccomando però è un veicolo che andate a perdere Ok quindi ho acquistato la LG L'ho messa già nel centro operativo mobile A questo punto ragazzuoli ho chiamato già il centro operativo mobile Il veicolo che dovrà passare il mio amico Dovrà stare in questa posizione qua Guardate qui ve lo faccio vedere Assolutamente importante Come nello scorso video È importante che l'auto sta in questa posizione Ok proprio fronte a questo tombino che avete sulla strada Ok quindi importantissimo Perché se non vi esce nada de nada Quindi io scenderò dal veicolo che voglio ricevere Vado su servizi Vado su centro operativo mobile E richiedo il veicolo personale Che ovviamente vado a perdere Aspetto che mi spawna in mappa Una volta che è spawnato in mappa Dovrò salire quindi col mio amico Adesso ve lo faccio vedere anche dalla clip Mi recco verso il veicolo che voglio sacrificare Quindi quello che andiamo a perdere Salirò su Salirà anche il mio amico Il mio amico si metterà con option Quindi in pausa Quindi in questa schermata qua Ve la faccio vedere Si metterà in questa schermata Noi invece ci dirigiamo verso il centro operativo mobile Andremo nel retro del centro operativo mobile Ci metteremo dietro In questo modo Premeremo freccia destra Il mio amico scenderà in automatica Noi faremo retromarcia A questo punto premeremo triangolo Faremo il trick di Franklin Basterà solo una volta Ci avviciniamo Quindi rifiutiamo ovviamente il messaggio Ci avviciniamo al centro operativo mobile Sul pallino blu Dobbiamo fare Entra da solo Ok quindi mi avvicino Faccio entra da solo Nella schermata nera Dobbiamo Dopodiché Spammare triangolo Importantissimo Quindi vado a spammare triangolo Vado a spammare triangolo Ma se come nel mio caso ragazzuoli La schermata nera diventa veramente infinita Nonostante tutto sto spammando triangolo Partecipo a un amico in mira differente Quindi aspetto e recupero dettagli della sessione Accetto ovviamente il primo messaggio che uscirà Quindi quello per unirsi Rifiuterò il secondo E a questo punto saremo nel com Con l'auto del nostro amico Quindi glitch Veramente facile Veloce E ovviamente ragazzuoli Si può ritornare a scambiare tranquillamente Ragazzuoli Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video Bella Bella